L'albergo delle fate al villaggio Mancuso che era di Don Silvano Mancuso l'ha venduto dopo incertar cure, gestito dal suo ex segretario dell'albergo Piccoli e quest'anno è chiuso. Qui hanno girato la ballata dei mariti, un film del 62 con Harold Dottieri. Grazie a tutti. 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 Signora, se la vuole assaggiare lo può fare? Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.